Nonostante le polemiche che si sono susseguite negli ultimi anni per la realizzazione dell'isola ecologica e località Malagenia, il Comune di Agropoli ha riapprovato il progetto esecutivo e gli iter per la creazione dell'area possono prendere il via. L'isola ecologica è stata per anni al centro di una vera e propria battaglia per la sua non realizzazione, prima con l'impegno del Comitato Difesa Ambiente, Territorio e Vivibilità per Malagenia e poi anche con il ricorso al Tarda di Salerno presentato dal Comune di Ogiastro Cilento, ma tutto ciò non ha portato a risultati visto che l'avvertenza è stata respinta e così il Comune di Agropoli ha potuto riapprovare il progetto e deliberarne l'esecutività. L'isola ecologica verrà realizzata in un'area acquisita dal Comune per 118 mila euro e tutte le opere a farsi sono a carico della ditta giudicataria, dei servizi di raccolta differenziata integrata, dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari, la SARIM. Dunque il primo lotto di realizzazione dell'area di sosta, mezzi e trasferenza RSU prenderà il via nelle prossime settimane.